Oggi sei molto contento di poterti vaccinare, sei venuto proprio... l'hai chiesto tu, eh? Perché? Per proteggere me e miei nonni. Quanti anni hanno i tuoi nonni? Come si chiamano? Mio nonno ha 84 anni, ha 85 anni, mia nonna ha 75. Non si possono vaccinare perché hanno delle reazioni particolari, per cui tu hai deciso, mi vaccino io per voi. Sì, mi vaccino io. E questa è Enni. Allora, Enni, sei contenta, sei preoccupata? Sono contenta. Perché? Perché ci sono i clown e possiamo giocare. Adesso fra poco ti chiameranno per il vaccino? Paura? Nessuna paura. Nessuna paura. È proprio tranquillissima, c'è il piccolo richiamo, ma poi sei protetta dal Covid, da questa malattia, insomma sei contenta, così non la prendi tu e non infetti gli altri. No, non infetto gli altri, non infetto i miei genitori, non infetto mia sorella, non infetto i miei cugini, non infetto la zia. Marco, che ha dieci anni, ha scritto è importante vaccinarsi. Guarda com'è fatto bene la siringa. Qui hai scritto no, perché no? No al Covid. Tu hai più paura di prendere il Covid o di farti il vaccino? Di prendere il Covid. No al Covid.